Giampiero Di Carlo, Rockall Music Biz, ci puoi spiegare di che cosa si tratta? È una costola di Rockall legata all'intelligenza artificiale? È una costola di Rockall decisamente, la parte di Rockall che tratta tutti i giorni l'industria musicale proprio all'incrocio con la tecnologia e l'innovazione. Copre anche l'intelligenza artificiale della quale negli ultimi due anni abbiamo scritto tantissimo e continuiamo a scrivere parecchie volte ogni settimana. Rockall Music Biz, come tutto Rockall, è basato anche sui tag, per cui basta che alla fine di un articolo che parla di questo argomento si clicchi su tag AI, come intelligenza artificiale, e si troveranno tutti gli articoli che abbiamo scritto a proposito di questo argomento. Ma hai un timore, una paura nell'ambito della musica legata all'intelligenza artificiale? Ma me lo chiedi nel mio ruolo di editore, me lo chiedi per Rockall oppure per la musica in generale? Te lo chiedo per la musica in generale. No, non ho paura perché la musica è sempre stata soggetta, è stato sempre un progiolo di innovazione e l'ha sempre vista brutta e l'ha sempre in qualche maniera superata, cambalcata e siamo in una di quelle fasi. Non abbiamo nulla da temere. C'è qualcosa da temere, non dico questo, però non è assolutamente la fine del mondo, io vedo un bicchiere mezzo pieno. Benissimo, grazie Gian Piero.